ecco stefano guarda un po se mi senti adesso ecco guarda un po adesso mi sono avvicinato di un mezzo metro che c'è meno fruscio di sottofondo molto bene va bene stefano qui c'è un po di vento temperatura 15 gradi però rientriamo perché sta abbugliando senti io sto andando in bassa con circa un watt forse un po meno perché scarico il tuo apparato l'ho visto lo so qual è comunque se vuoi ti faccio una breve registrazione adesso quando riprendo te la invio poi dopo è che il K1 VHX modulato di K1 BSX diretta 145 400 ecco guarda un po adesso si sentirà poi un po di fruscio nel video che sto facendo sto filmando verso Portofino e si vede l'autostrada qua sotto e sta cominciando a venire buio inizia un pochino a scurirsi e ci sono anche un po di nuvo e si è aumentato un pochino il fruscio perché lì sappiamo benissimo che quando si va con il K1 basta spostare ma di là hai visto ieri come facevo io per città di colori di Alessandria ma potevo migliorarlo comunque si fa così muovi dappertutto finché non esce fuori se lo senti hai margine per migliorare bene dai non ti tengo oltre perché se devi fare lì puoi rientrare tutto insomma è il tuo da fare ti ringrazio mi ha fatto piacere sentirti ascolto il tuo finale che poi rimane registrato poi ci risentiamo per un'altra prova magari andando direttamente su in una giornata più idonea bene Stefano guarda adesso sta venendo sta imbrunendo scendiamo giù ci prendiamo un cappuccino qualcosa al barcolo lì dal bivio per monte fasce e monte moro il K1 VHX che ritorna per il K1 BSX da monte moro finalizza ciao grazie buona domenica buona serata grazie Bruno è stato un piacere salutare a Sara ma più che altro c'è appena appena un po' di fruscio ma quello che c'è si sente un po' di vento un po' di soffio di vento poi lo ascolterai nella registrazione